ciao amici praticamente ogni settimana parlo di dimagrimento naturale e moltissime persone poi in privato mi scrivono per avere info su come funziona il mio sistema cioè oltre ai video vogliono sapere come possono essere seguite personalmente da me simona non avresti un programma per dimagrire con cui mi segui proprio dall'inizio alla fine perché già lo so che senza un aiuto costante una persona fidata io mi perdo e non arrivo fino in fondo ora vista la situazione per poter seguire quante più persone possibili e non solo quelle che mi possono raggiungere nel mio studio di milano ho creato qualcosa di unico e straordinario unico perché è un percorso completo non una dieta si può fare finalmente tutto online e non esiste niente di simile in italia garantito è straordinario perché in oltre 25 anni di professione ho seguito oltre 4000 persone che sono dimagrite bene e per sempre e quando vi dirò quanti chili hanno perso tutte insieme sarete d'accordo con me che è qualcosa di straordinario il video di oggi è dedicato al mio metodo per dimagrire senza dieta in tre mesi per smettere di odiare il grasso che ti perseguita e disperarti perché nulla funziona e ti senti condannata con cui puoi invece dimagrire velocemente senza nessuna dieta restrittiva senza pesare il cibo contare le calorie con la mia sinergia di salute naturale con cui perdi il grasso mentre guadagni salute ed energia e senza sconvolgere la tua vita e quella della tua famiglia quindi non è la dieta della naturopata simona vignali ma nemmeno per sogno no io sono naturopata e non posso ma meno che mai voglio dare diete anzi sono proprio contraria alle diete lo dico in tutti i miei video e più avanti in questo video vi spiego perché intanto posso condividere con voi una riflessione finalmente anche la scienza ha dimostrato che siamo esseri complessi fatti di corpo mente emozioni e anche energia ed è per questo che quando vogliamo ottenere una trasformazione personale dobbiamo agire in modo sinergico che vuol dire tenere conto di tutti questi fattori altrimenti non avremo mai i risultati che cerchiamo nemmeno per dimagrire come naturopata esperta di alimentazione sana e dimagrimento naturale quando le persone si rivolgono a me per dimagrire mi raccontano sempre la stessa storia tanti sacrifici e pochi risultati attacchi di fame nervosa che rovinano tutto desideri e sgarri che poi portano a mollare la dieta sensi di colpa e frustrazione a go go fatica a mantenere la costanza e la determinazione e i risultati rovinati appena si riprendono le vecchie abitudini e non è solo una questione di estetica o poterci mettere i vestiti aderenti che ci piacciono tanto il grasso in eccesso è pericoloso per la salute fa male al cuore appesantisce gli organi visceri ci rende gonfi pesanti rallenta i movimenti rovina la vita sociale e in molti casi anche quella sessuale abbassando l'autostima e aprendo la porta situazioni di ansia insicurezza depressione figurati che io vado in paranoia già se faccio fatica a infilare i leggings veramente a quanto mi confidano è così per il 99 per cento delle persone che seguono una dieta se anche tu in questo momento stai lottando contro i chili in eccesso non ne puoi più delle diete privative che puntualmente molli non sai come perdere peso e mantenere i tuoi risultati il video di oggi è proprio per te sei nel posto giusto ecco cosa vedremo insieme uno l'errore ricorrente più disastroso che il 99 per cento delle persone commette quando vuole dimagrire con la dieta due qual è il mio metodo naturale per dimagrire in modo fisiologico senza dieta e senza fatica è comprovato da 25 anni di persone felici libere dal grasso tre perché seguire un percorso guidato di trasformazione che fa perdere peso mentre aumenta l'equilibrio fisico e mentale quattro e alla fine di questo video spiegherò come fare per seguire il mio metodo dimagrire senza dieta guidati da me passo dopo passo simo chi non ti conosce potrebbe pensare che sei l'ennesima ciarlatana del grasso e allora mi presento in poche parole per chi non mi conosce sono simona vignali da oltre 25 anni naturopata specializzata in alimentazione sana esperta di estetica naturale ayurveda yoga meditazione mindfulness ho creato diversi metodi diversi sistemi tra cui conosciuto dai più il metodo viso lift per ringiovanire il viso in modo naturale e la mia sinergia di salute naturale per recuperare il benessere totale a 360 gradi e ovviamente il metodo dimagrire senza dieta di cui vi parlo oggi per ritrovare non solo la linea ma anche tanta energia e pensiero positivo il mio curriculum di studi in italia e all'estero di attività professionali è lungo e particolare per esempio ho scritto solo sette libri e ho fondato tre scuole di formazione nell'ambito olistico comunque vi consiglio di andare a leggere tutto sul mio sito anche la storia della mia vita che è piena di viaggi avventure avvincenti e insomma tante cose particolari interessanti ma quello di cui voglio parlare oggi è il metodo dimagrire senza dieta l'ho messo a punto l'ho perfezionato in 25 anni di professione come naturopata vi posso garantire che ha aiutato migliaia di persone a perdere chili e chili di grasso la cosa straordinaria con il mio metodo è che dimagrire non è più l'ossessione che condiziona e monopolizza la tua vita ma la naturale conseguenza del tuo nuovo stato di chiarezza interiore benessere e salute potenziata in modo naturale per l'esattezza in oltre 25 anni più di 4000 persone si sono rivolte a me per perdere peso e hanno eliminato il grasso in eccesso senza fatica e definitivamente facendo una media di oltre 8 chili a testa tutte insieme hanno perso più di 32 mila chili di grasso 32 tonnellate di grasso sono difficili da immaginare vero allora vi aiuto io praticamente il peso che può trasportare uno di quei tir enormi un tir intero di grasso che se n'è andato e non tornerà mai più per il prossimo tir io ho già trovato l'autista ottimo ce ne sarà bisogno ma prima vediamo cosa dicono alcune persone che si sono liberate del grasso in eccesso in meno di tre mesi con il mio metodo dimagrire senza dieta ho 54 anni e volevo parlarvi di come ho scoperto il metodo di simona dimagrire senza dieta cioè io quando ho sentito questa parola ho detto no vabbè non è possibile in due mesi ho perso 7 kg mi sono sgonfiata ma non è soltanto questo ho ottenuto dei benefici anche a livello proprio mentale spirituale e sono veramente felice presa da uno sconforto totale ho detto proviamo questo metodo cioè è fuori di testa perché io in tre mesi tre mesi ho perso 6 kg ormai da un mese e mezzo nella quale ho perso 12 kg quasi sono molto contenta di questo risultato anche perché non me lo sarei mai aspettato mi ha dato la possibilità di avere uno stile di vita completamente diverso è lo stile di vita che adesso mi fa star bene mi fa essere insomma una persona nuova per me è stato la scoperta dell'america anche perché non non sopportavo veramente più la sola parola dieta avevo un rifiuto vero e proprio di mettermi a dieta basta ho detto io ho messo questo jeans per farvi vedere questa cosa perché è la soddisfazione della mia vita cioè può confermare che non li ho più ripresi comunque sono contentissima riuscire a dimagrire senza stare a dieta è un miracolo nella nuova scoperta dell'america l'alimentazione è un'alimentazione assolutamente fattibilissima da tutti è un'alimentazione sana è un'alimentazione che non priva che si possono mangiare carboidrati che per me era la cosa più importante e seguendo questo metodo c'è un po' di di meditazione segui uno stile alimentare non devi pesare i cibi questa brutta cosa che si fa nelle diete classiche diciamo ed è proprio un metodo a dimagrire velocemente grazie al quale appunto adesso sono più contenta grazie a te sono uscita a dimagrire la mia esperienza di 25 anni con migliaia di persone ha dimostrato che le diete i sacrifici le privazioni i grammi da pesare le calorie da contare le cose buone a cui rinunciare e poi la frustrazione i sensi di colpa quando cedi agli attacchi di fame nervosa non sono gli strumenti per dimagrire ma i nemici invisibili che lentamente distruggono la tua motivazione aumentando solo la disperazione e sostituiscono il piacere di impegnarti per avere il corpo che desideri con la sofferenza di seguire abitudini innaturali e punitive la via da seguire invece deve essere naturale e fisiologica e dare anche gratificazione ha finalmente qualcuno che me lo conferma io lo sospettavo da sempre non lo dico solo io ma le centinaia di testimonianze delle persone che sono dimagrite senza dieta con il mio sistema e come hanno fatto in realtà è semplice hanno smesso di commettere l'errore principale che ho individuato in tanti anni di studio e di pratica quello per cui qualunque cosa tu faccia qualunque sforzo sacrificio o privazione non riuscirai mai a dimagrire e volete sapere qual è l'errore numero uno della dieta è la dieta stessa ma come non è un controsenso non è un controsenso ci sono studi scientifici molto autorevoli che lo dimostrano per esempio una ricerca pubblicata dalla rivista journal of consumer psychology ha dimostrato che chi segue una dieta rigida è condannato a fallire più di chi sa come sgarrare dalla dieta ogni tanto ecco perché la dieta è il nemico numero uno del dimagrimento porta a essere in lotta perenne con il cibo e con noi stessi un vero stress e lo stress aumenta i livelli di cortisolo che è l'ormone che fa immagazzinare il grasso invece di smaltirlo e la dieta non ti educa a mangiare bene per cui appena la smetti ritorni alle tue vecchie brutte abitudini e così non si dimagrisce è inevitabile allora corro subito a mangiare tutto quello che mi sottotiro attenzione ho detto che bisogna sapere come sgarrare partendo da questo e altri errori ho messo a punto la mia strategia sicura per guidarti a dimagrire senza dieta e senza rinunce essendo una naturopata io non parto dalla dieta ma dalla mia sinergia di salute naturale così mentre ottimizzo la salute naturale favorisco il detox aumento la forza e la sicurezza interiore elimino lo stress legato al cibo il processo di dimagrire diventa la naturale conseguenza del tuo nuovo stato di benessere il segreto è non sentirti a dieta imparare a seguire uno stile di vita che ti rigenera e capire come creare nuove abitudini che ti danno altrettanto piacere gratificazione soddisfazione ma senza ingrassare il mio sistema funziona così lo spiego passo per passo 1 prima di tutto favorisco la depurazione perché il corpo deve essere liberato dalle tossine che si immagazzinano insieme alle cellule di grasso 2 poi ti aiuto ad abbassare i livelli di cortisolo eliminando lo stress e la fame nervosa agendo sul mindset e il pensiero positivo 3 ti educo a mangiare più sano con la mia alimentazione consapevole così impari a sentire da solo cosa ti fa bene e cosa ti fa male 4 ti indico le abitudini per la tua migliore routine quotidiana ma in base alla tua costituzione personale perché siamo tutti diversi abbiamo esigenze diverse e bisogna prenderle in considerazione 5 così ti porto a perdere peso in modo graduale ma definitivo come conseguenza del tuo nuovo stato di benessere ed equilibrio psicofisico attenzione però oggi molti stanno iniziando a usare queste parole ma in realtà lo fanno solo per vendere delle diete camuffate per questo è importante farsi seguire da chi ha una vera esperienza e delle vere testimonianze altrimenti si ricade nell'errore più grave di tutti la dieta esatto bisogna essere seguiti durante tutto il percorso per non sentirsi mai soli e abbandonati a se stessi magari dopo che qualcuno ti ha venduto una dieta e poi non lo senti più e poi bisogna sapere come mantenere alta la motivazione e la gratificazione per dimagrire e sgonfiarsi ritrovare la tua forma e la tua linea mangiando quei cibi che ti gratificano ma non ingrassano sentire il corpo leggero avere tanta più energia e positività e riprendere il controllo della tua alimentazione è ancora più importante della tua vita insomma dimagrire senza dieta migliorando la salute e in modo del tutto naturale ormai non le conto più sono moltissime le persone che avevano perso la fiducia e la speranza di ritrovare la linea in modo naturale ma con il mio metodo dimagrire senza dieta hanno raggiunto i risultati che cercavano da anni in pochi mesi e con la mia guida hanno trasformato non solo il loro corpo ma come dicevo anche la loro vita completamente e questi sono i risultati che mi danno tanta soddisfazione immagina loro e come si ottiene tutto ciò tutti possono farlo e ci sono due possibilità con me uno seguire i miei video singoli sul canale di youtube ce ne sono circa 1500 quindi tantissime informazioni a cui attingere moltissime persone con grande forza di volontà e incrollabile determinazione sono dimagrite mettendo insieme tutti i pezzi selezionando da sole i miei consigli più adatti a loro due oppure siccome in moltissimi mi state chiedendo di essere seguiti personalmente da me per aiutarvi a riprendere in mano le redini della vostra vita perdere chili di troppo avere motivazione e costanza beh prima la risposta era no perché seguivo solo le persone in presenza che venivano nel mio centro a milano lo spazio solo salute ma durante i mesi di lockdown ho realizzato un percorso online in realtà qualcosa di unico con la mia esperienza di naturopato ho creato qualcosa di straordinario e unico in italia un percorso di tre mesi 12 settimane nelle quali vi guido per raggiungere insieme la vera trasformazione che state cercando questo percorso è strutturato con dei video coaching online dedicati ed esclusivi per questo percorso in parte con contatto telefonico o in diretta live direttamente con me e ci sarà sempre teoria pratica ma soprattutto supporto e motivazione da parte mia che rispondo a tutte le domande e do tutti i consigli basati sulla mia esperienza per 12 settimane avrai tutto il mio sostegno e la mia guida personalizzata per raggiungere i tuoi obiettivi di benessere e di dimagrimento troppe persone mi dicevano che la singola consulenza non era più sufficiente per rompere il circolo vizioso che le fa ingrassare e ricevere tutto il sostegno di cui c'è bisogno quante persone mi raccontano che vanno a farsi fare la dieta torna una casa con la loro bella cartellina stampata ma poi si fanno prendere dallo sconforto e la dieta finisce nel cassetto in tutti i sensi mi confessano che anche se sanno molto bene cosa devono mangiare o non devono mangiare senza il sostegno di una persona fidata ed esperta da sole non ce la fanno e hanno ragione perché dimagrire è una trasformazione non è solo una questione estetica o di alimentazione e per realizzare una trasformazione completa serve una guida completa che sappia seguire tutti gli aspetti di questo processo e il percorso dimagrire senza dieta con la sinergia di salute naturale è la risposta naturale a questa richiesta sempre più crescente ho detto che il percorso dura tre mesi 12 settimane perché questo tempo è quello necessario e fisiologico per attivare e stabilizzare un vero processo di trasformazione personalmente posso seguire in modo continuativo e intensivo poche persone in questo percorso al massimo 10 alla volta perché voglio dare il meglio di tutte le mie conoscenze e soprattutto il mio supporto costante e personalizzato uno ad uno risponderò a tutti i dubbi e le domande che si presentano durante il percorso ovviamente anche sui menù e su come sostituire gli alimenti ingrassanti con alimenti sani e altrettanto buoni che la maggior parte delle persone non conosce e faremo tanti esercizi alcuni bellissimi per migliorare il rapporto con noi stessi con il cibo e molte 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 altre cose attenzione io do molto ma chiedo anche molto in termini di impegno e serietà voglio lavorare con persone motivate a ottenere risultati e disposte a condividere i loro risultati per creare insieme una bella community che è dimagrita senza dieta e dimostrare che il metodo dimagrire senza dieta funziona anche meglio dei metodi tradizionali e delle diete certo perché è così allora come fare per essere seguiti da me personalmente bisogna prima mandare una candidatura cioè rispondere a un questionario e per continuare fissare una call telefonica con me attenzione la call non è una consulenza sul dimagrimento ma un virtuale faccia a faccia dove valuteremo insieme se il percorso è dato a te e se tu sei adatto al percorso questo è il primo passo da compiere se hai deciso di dimagrire senza dieta con la mia sinergia di salute naturale ora se vuoi ritrovare la linea la forma fisica l'energia la serenità la direzione della tua vita in tre mesi senza stress e fatica senza dieta insieme a me qui sotto trovi la descrizione di come procedere per accedere al questionario e alla candidatura mi raccomando non scrivetemi nei commenti ma quanto costa ma quanto costa perché ne parliamo insieme durante la call devo sapere qualcosa di voi prima no e io ti aspetto dall'altra parte naturalmente ciao